Bella la vita dell'allenatore. Ma un allenatore di serie B? Già, perché non è solo un fatto sportivo. C'è anche la famiglia, e il presidente, e i giocatori, e i tifosi. E poi la retrocessione, la salvezza, i gol. E' una vita che può mandarti nel pallone. Lino Banti, Gigi Andrea, l'allenatore nel pallone. Prima TV, mercoledì alle 20.30, su Canale 5.